Ha tentato di estorcere per l'ennesima volta soldi alla madre, ma al rifiuto dell'anziana l'aggredita prendendola a pugni e fratturandola il naso. La violenza si è consumata ad Andrea, dove gli uomini del locale commissariato di polizia hanno tratto in arresto un 51enne del posto incensurato. Gli agenti sono intervenuti a seguito di una richiesta d'aiuto giunta al 113 per un'avvenuta aggressione in un appartamento del centro cittadino. Ad accogliergli sul posto c'era una donna anziana sanguinante con il volto tumefatto. Prima di perdere conoscenza la vittima è riuscita a raccontare agli agenti di essere stata picchiata dal figlio, poi fuggito nel timore dell'arrivo della polizia. Avviate le ricerche l'uomo è stato rintracciato dopo pochi minuti presso la locale stazione dei carabinieri dove si era recato per denunciare proprio l'aggressione della madre ad opera di ignoti. Dalle indagini svolte è stato possibile ricostruire l'intera vicenda. Una brutale violenza tra le mura domestiche scattata a seguito del rifiuto della donna di cedere all'ennesima richiesta di denaro del figlio per l'acquisto di alcolici e sostanze stupefacenti. Al no dell'anziana il 51enne l'ha aggredita procurandole la rottura del setto nasale e diverse tumefazioni al volto. L'uomo si trova adesso in carcere su disposizione del sostituto procuratore presso il tribunale di Trani Mirella Conticelli. Dovrà rispondere dei reati di tentata estorsione e lesioni personali.